Gela a difesa del Tribunale, a sostegno dell'unico giudice che segue procedimenti penali su inquinamento ambientale e malformazioni che sarà applicato a Catania. Il presidente del Tribunale di Gela, Paolo Fiore, quello della Corte d'Appello, hanno espresso la loro contrarietà al trasferimento di Manuela Matta. La situazione che presto verrà a crearsi è critica, scrive il presidente Fiore al ministro della giustizia Andrea Orlando. rischiamo di vedere vanificati anni di impegno inquirente nel settore ambientale e in quello del lavoro. Fiore parla a nome anche del procuratore capo Lucia Lotti, esprimendo incredulità di tutti i magistrati per l'accaduto. Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco Domenico Messinese. Gela non assisterà impassibile all'ennesimo tentativo di scippare la città di un diritto di Stato. Il provvedimento è stato adottato lo scorso 22 dicembre dal Consiglio Superiore della Magistratura. Colpire la sede del distretto giudiziario maggiormente compromessa dalla carenza d'organico, ha continuato il primo cittadino, apparirebbe come uno dei peggiori sabotaggi all'azione inquirente della nostra procura in tema di ambiente e lavoro, in una terra che grida giustizia. Uno stop a centinaia di importanti procedimenti penali ci allontana dallo Stato di diritto e ci rende orfani delle dovute tutele giudiziarie. Da oggi annunciamo una serie di iniziative di mobilitazione, ha concluso il sindaco di Gela, per ottenere dal CSM un'istanza di revoca dell'applicazione extra distrettuale, coinvolgendo anche la sensibilità di tutta la deputazione del territorio. I parlamentari abbiano la forza di sostenere le rivendicazioni della gente di Gela, portando le loro istanze a Roma per rispetto di chi è stato offeso dall'ingiustizia e di chi è piegato al bisogno.